Voglio presentarti le nostre compagne. Ciao! State bene insieme. Lo prendi tutto? Oh. Una pessima idea. Stupida e pericolosa. E oltretutto non ha alcun senso. Tu pensavi di portarmi qui e fare sesso con me. Cosa? Non è feo? Dove mi trovo? Vai, Meg! Chi sono queste ragazze? Com'è? Dov'è la tua faccia? Questo weekend di nozze sta andando a buttare! Cosa?